Come ogni concorso che si rispetti, anche lo straordinario per i docenti della scuola secondaria si sta svolgendo fra polemiche, accuse e sospetti di ogni genere. Ovviamente il tutto si intreccia con i problemi legati all'epidemia e alle misure restrittive per le scuole. Per esempio, sui social si sta già diffondendo una linea di pensiero che è tutta da dimostrare ma che comunque riscuote consensi. Molti infatti sostengono che la ministra vuole tenere duro sulla apertura delle scuole almeno fino alla metà del mese in modo da evitare di dover sospendere le prove del concorso la cui conclusione è prevista proprio per il 16 novembre. Una chiusura delle scuole prima di quella data, sostengono molti docenti, metterebbe a rischio la regolarità del concorso che potrebbe così essere annullato, che è esattamente ciò che la ministra non vuole. Quanto ci sia di vero in questa ipotesi non si sa, ma resta il fatto che anche questo apre un ulteriore fronte di polemiche. E come se non bastasse, nei giorni scorsi sono comparsi persino grafici che dimostrerebbero che nella notte prima degli esami alcune parole chiave avrebbero registrato un picco insolito di ricerche su Google. Guarda caso si tratterebbe di parole chiave legate ad argomenti delle prove del concorso del giorno dopo. Il fatto dimostrerebbe che qualcuno già conosceva il testo di uno o più quesiti e si è documentato proprio poche ore prima della prova. Anche in questo caso bisognerebbe però disporre di qualche dato in più per capire se l'ipotesi è plausibile. Ma è un fatto che su questo il senatore della Lega Mario Pittoni ha deciso persino di aprire una propria campagna sui social, annunciando una denuncia alle autorità competenti, Polizia Postale e Procura della Repubblica. Restando ai fatti acclarati bisogna prendere atto che fino ad ora ha partecipato alle prove l'80% circa dei docenti che avevano presentato domanda. Non è dato tuttavia di sapere quanti degli assenti siano rimasti a casa per motivi di salute o perché nel frattempo hanno rinunciato a partecipare. Le proteste riguardano però anche le prove stesse. Molti docenti ci hanno scritto per segnalarci non solo il poco tempo a disposizione per poter svolgere adeguatamente i diversi quesiti, ma anche l'eccessiva difficoltà della prova di lingua straniera. E a questo punto emerge anche un altro problema di non poco conto. La ministra aveva promesso che, terminato il concorso straordinario, sarebbe partita immediatamente la procedura per i concorsi ordinari. Ma è chiaro che ormai, nella migliore delle ipotesi, per questi concorsi bisognerà aspettare almeno al mese di gennaio. E sarà proprio sui concorsi ordinari per infanzia, primaria e secondaria che ci saranno i problemi maggiori perché si prevedono non meno di 500.000 concorrenti che si dovranno spartire 40.000 posti o poco più. Se la macchina amministrativa funzionerà alla perfezione, le prime immissioni in ruolo, per esempio quelle per primaria e infanzia, potrebbero arrivare per settembre 2021, sempre che si riesca a far partire l'attività scolastica in modo completo e regolare per la prossima primavera, previsione sulla quale ad oggi neppure i tecnici sono in grado di dare certezze. Sugli sviluppi dei concorsi, sia del concorso straordinario sia di quelli ordinari che sono in arrivo, vi terremo informati, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul portale www.tecnicadelascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre esperienze, i vostri commenti, ne daremo conto come al nostro solito. Grazie.